Dopo l'iscrizione al campionato, perfezionata con abbondante anticipo ieri a Firenze alla presenza del vicepresidente Maria Assunta Pintus, dell'amministratore delegato Edoardo Chighine e del direttore generale Gianni Francavilla, per il Foggia è ora il tempo dei primi annunci. Il presidente Nicola Canonico, che ha già in mano l'intesa con Zdenek Zeman, attende di definire l'accordo sabato, quando il boemo farà tappa in città. In quell'occasione Canonico conta di mettere nero su bianco ad un accordo che dovrebbe prevedere un matrimonio annuale con ipotesi di rinnovo per un altro anno. Nelle prossime ore sarà ufficializzata anche la nomina di Giuseppe Pavone come direttore sportivo. Lo stesso Pavone in ogni caso è già al lavoro per individuare i tasselli giusti che faranno eventualmente poi al caso di Zeman. D'altronde l'intesa tra i due è cosa nota, da decenni si conoscono a mena dita e si intendono al volo. Pavone dunque sa già quelle che sono le caratteristiche dei giocatori da mettere poi a disposizione del boemo. Domani intanto il giorno della festa riapre ai tifosi lo zaccheria, sia pure per soli mille spettatori. C'è l'evento Un secolo di stelle Foggia Legends con una parata di vecchie glorie che affronteranno una rappresentativa mista di collaboratori del Foggia e del Comitato Rosso Neri per sempre e un'altra formazione composta da giornalisti locali. Madrina ad eccezione dell'evento sarà Manuela Arcuri.